avendo il pallone, Shetty. Andiamo in pallonecchia un po', in quanto abbiamo fatto le minandane, prima con gocce di sale e poi abbiamo passato in padella un pederete senza olio. Una salsa a pomodoro, solo comodoro, olio e aglio. E poi mozzarella e pasta biglia, appena passate per la vita. Allora, vengo lì. In quanto amico abbiamo il mio rollo, altri rudelli, come si fa l'aspera una punta, e poi mozzarella e scarola, C'è, dammi l'osso, dammi l'osso. 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 No. Dammi l'osso.